Ha partorito la sua bimba, ma poco dopo sarebbe andata in coma. Si chiama Nicola Lanson, ha 38 anni d'età, inglese, una storia estrasiante. Dove aver fatita dal mondo la piccola Lexi, bimba tanto voluta e tanto amata, ha avuto il tempo di abbracciarla per poche ore prima di cadere in un coma terribile, per colpa di una moraggia cerebrale. I medici stanno facendo tutto il possibile per tentare di tenerla ancora in vita, ma la breve analisi sembra che possa avere già subito dei danni a livello permanente, di cui però non si conoscono ancora le esatte cause. Disperato, ovviamente, anche il compagno della donna, favore della piccola. La cosa più strassiante è che lei non potrà ricordare i momenti che ha passato con Lexi dopo la sua nascita. Aveva sempre sognato di diventare una mamma. D'anni la donna provava e riprovava a restare incinta, senza però ottenere alcun successo. Dopo aver scoperto di rispettare Lexi, la gioia è stata incontenibile e per fortuna tutto sembrava procedere per il meglio. Nicola e il compagno stavano pensando anche di sposarsi, no? chiesa. E dal spodale hanno già iniziato a progettare la loro vita insieme due giorni dopo il parto, la donna ha avuto uno strano e insolido sanguinamento del cervello. Questo sarebbe quanto. Il video termina qua. Un saluto a presto.